Non importa quanto siete fighi, importa che siete uomini sicuri, che curano loro stessi e che siano belle persone sia fuori, quindi persone curate fuori, e curate soprattutto dentro, che abbiano una personalità. Potete avere il fisico più figo del mondo, essere i più belli del mondo, ma se non sapete comportarvi, se siete insicuri, se siete attaccati morbosamente alle donne, se siete degli zerbini da mettere in friendzone, non conquisterete mai la donna dei vostri sogni.